Autobus in fiamme questo pomeriggio in località Ila Torrino, alle porte di Arezzo, nel Rogo il mezzo è andato completamente distrutto. Sono stati infatti attimi di paura quelli vissuti lungo la statale 73 che collega la città a Sansepolcro poco dopo il Bivio per Poti. Per cause ancora in corso d'accertamento, dal retro dell'autobus della Bassa Italia si sono sprigionate le fiamme che in breve hanno distrutto la parte superiore del veicolo che è stato avvolto in una nuvola di fumo. La densa colonna nera era infatti ben visibile anche dalla città. A bordo dell'autobus c'erano 5 passeggeri che sono riusciti a fuggire subito fuori e mettersi al sicuro anche grazie al tempismo del conducente che ha immediatamente aperto le porte del mezzo. Anche l'autista fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo, è stato a soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all'ospedale San Donato di Arezzo. Per alcuni accertamenti le sue condizioni sarebbero comunque buone. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato e i vigili del fuoco con tre mezzi e sette uomini. I pompieri hanno domato il rogo emesso in sicurezza alla zona, evitando che l'incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante. Durante tutte le operazioni la strada statale 73 è rimasta chiusa al traffico con inevitabili disagi.